Rieccoci gentili telespettatori, seconda parte ancora informazione e ancora una volta targata Telerent 7 Gold Attualità. Lo avevamo già annunciato ma lo ripetiamo per tutti coloro che si fossero sintonizzati solamente adesso con la nostra emittente. Parliamo di maestri internazionali in Vaticano e sono stati due gli artisti palermitani che hanno rappresentato il capoluogo siciliano al cospetto del Papa. Si tratta di Giovanni Artale, fotografo con alle spalle già diverse mostre personali e premi ricevuti in giro per l'Italia. Con lui anche Johnny Carolla, autore di oltre un centinaio di opere molto apprezzate tra le quali La Cala e i Quattro Canti. Ascoltiamo le interviste realizzate per la nostra redazione. Due artisti hanno rappresentato Palermo nel corso della mostra Maestri internazionali in Vaticano al cospetto del Papa. Si tratta di Giovanni Artale, fotografo con alle spalle già diverse mostre personali e premi ricevuti in giro per l'Italia, e Johnny Carolla, autore di oltre un centinaio di opere molto apprezzate tra le quali La Cala e i Quattro Canti. Giovanni Artale è il reduce dello straordinario successo ottenuto dalla dodicesima biennale di Firenze con il conseguimento del premio internazionale Lorenzo il Magnifico, menzione speciale del Presidente. Proprio in questa circostanza, il fotografo palermitano ha posto all'attenzione dei presenti il suo personalissimo stile in bianco e nero con le opere Il lancio della foglia e Amori eterni, che di fatto gli sono valsi l'invito all'evento in Vaticano. Il pittore Johnny Carolla, all'attivo, ha già numerose presenze a livello nazionale in manifestazioni del calibro di Art Expo a Padova, della Biennale d'Arte Internazionale di Palermo e della Biennale Fiorentina, dove con l'Opera Dancer insieme ad Artale è stato l'unico palermitano a partecipare. Dal desiderio di collaborazione tra i due artisti è nato uno stile di forte impatto che sembra destinato a destare curiosità, un'interpretazione a due in cui l'arte della pittura si fonde con quello della fotografia. La mostra intitolata ai maestri internazionali in Vaticano è stata una mostra molto interessante. In Sicilia, precisamente a Palermo, siamo stati selezionati in due artisti, uno per la pittura appunto nella mia persona e nella fotografia invece Giovanni Artale. Ho portato alla mostra tra due opere ad olio, una raffigurante il Cristo in croce presse dall'alto, appunto intitolato Perdono, e l'altro invece raffigura una biblioteca con al centro uno scheletro. Questa esperienza naturalmente mi ha gratificato tantissimo e adesso guardo avanti per eventuali nuove esperienze nell'ambito nazionale ed internazionale. Dopo l'esploi in quel di Firenze, dove inaspettatamente mi è stato dato il premio Lorenzo il Magnifico, per i miei scatti che in quella circostanza, cioè la dodicesima Florence Bennale, ho portato, devo dire che non mi aspettavo un riscontro ulteriore come quello che mi ha dato la mostra maestro internazionale in Vaticano che si è svolto a Roma dall'1 all'8 febbraio, ovviamente di quest'anno. Bene, che cosa dire di questa esperienza? È stata un'esperienza molto molto gratificante, un'esperienza che mi ha portato a essere selezionato con altri 59 artisti e di cui un altro palermitano come Johnny Carolla. Ho portato i miei due scatti di Firenze e devo dire che la location, l'attività svolta dagli organizzatori incaricati dal Vaticano e le opere osservate mi hanno molto gratificato perché a loro dire rientro in un numero di 60 artisti emergenti di livello internazionale. Grazie a questa esperienza guardo il futuro in maniera ancora più positiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.